Con Ettore Viola dopo la proiezione riservata alla stampa di Ergolde Turone era buono. Lo pronunciamo alla romana, giustamente Ettore. La prima domanda sono le prime sensazioni e impressioni dopo aver visionato il docufilm. Sono tornato a tanti anni indietro dove ero presente alla partita, all'amico juventino che ho sulla sinistra. Devo ribadire che il gol era clamorosamente buono per tutta una serie di motivi che adesso è inutile che si spieghiere. Se quel gol fosse stato convalidato mio padre dopo due anni di presidenza, al primo anno ha vinto la Coppa Italia, avrebbe sfilato lo scudetto alla Juventus. Come dicono i ragazzi, adesso era tanta roba sfilare dopo due anni lo scudetto alla Juventus. Così non è stato, pazienza. Comunque è un ricordo che grazie anche alla promozione e alla pubblicità che ha dato mio padre con il discorso dei centimetri con Boniperti ancora se ne parla. Ecco Ettore, nel momento in cui si trovava allo stadio, nel momento dell'annullamento del gol, pensava già che 40 anni dopo si sarebbe stato ancora a parlare dell'annullamento della rete? Direi assolutamente di no, anche se il discorso dei centimetri ogni tanto usciva fuori. Quindi diciamo diamo atto a mio padre che ha tenuto in vita, pur non essendoci più questo ricordo, che sfido chiunque della mia generazione a non ricordarsi. E gli gioventini dargli un minimo di fastidio perché significava che loro vincevano gli scudetti non sempre con un po' di malizia. E' chiaro, ecco, in generale fu anche uno scontro tra grandi signori del calcio di una volta. Ecco, secondo lei sarebbe possibile la stessa civiltà ironica, chiamiamo così, lo stesso umorismo tagliente ma mai offensivo che intercorse nello scambio tra Boniperti e suo padre? Ecco, devo però precisare una cosa. Mio padre considerava a Boniperti delle simpatiche intromissioni, ma lo pigliava in giro nel senso, al di là di definirlo geometra nel discorso dei centimetri, mio padre si confrontava e rapportava con Agnelli, erano loro i presidenti. Boniperti era il manager, per cui queste intromissioni della splendida persona che comunque era Boniperti gli davano un po' fastidio, vuol dire, tu parla con... cioè, non mi parlare più del dovuto, io mi confronto con Agnelli. Però, no, la classe, l'educazione, la buona creanza e i rapporti che c'erano un tempo appartengono a un altro calcio. Questo è un calcio completamente diverso, con proprietà che ci sono ma non si vedono, non si sentono, non parlano, che vengono qui, presumo in Italia, sicuramente inseguendo un business, non certo per una vocazione. Mio padre, diciamo, ha studiato per diventare presidente della Roma e ha improntato tutta l'attività industriale per dire, ah, finalmente posso comprarmi la Roma. E ci è riuscito. In ultima istanza, volevo chiederle, come mai nemmeno lo Scudetto vinto, poi alla fine, due anni dopo dalla Roma, è riuscito a cancellare lì per lì la grande ferita? È una ferita che si è riaperta negli anni successivi con la revisione del Telebim o era rimasta anche durante i festeggiamenti e poi dello Scudetto di due stagioni successive, dove alla fine la Roma lo vinse proprio ai danni della Juve? Sì, ne avremmo vinto un altro negli anni successivi, se non ci venisse annullato un gol dall'arbitro Delia in Verona-Roma, dove un guardialine sbandierò come uno sbandieratore di professione e l'arbitro Delia via 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 e diede il gol al Verona e anche lì la Juventus guarda caso. Quando c'è sempre lei c'è sempre un po' di malizia. e non ci fece vincere un altro Scudetto. Penso che ricorderai anche questo episodio. Stasera c'è Roma-Napoli, lei è allo stadio oppure la vide in generale? Sono gentilmente invitato ad andare allo stadio, ci vado volentieri e ovviamente chi tifo è scontato e mi auguro di vedere una bella partita. Vettore Viola, grazie mille di cuore. Grazie a voi.